Da Henry, Uomo e Bimby, collezione primavera, estate, troverai tutto quello che cerchi, a prezzi vantaggiosi, e con una spesa di 100 euro, Henry, Uomo e Bimby, riserva per te, una piacevole sorpresa. Da Henry, Uomo e Bimby, collezione primavera, estate, troverai tutto quello che cerchi, a prezzi vantaggiosi, e con una spesa di 100 euro, Henry, Uomo e Bimby, riserva per te, una piacevole sorpresa. Da Henry, Uomo e Bimby, collezione primavera, estate, troverai tutto quello che cerchi, a prezzi vantaggiosi, e con una spesa di 100 euro, Henry, Uomo e Bimby, riserva per te, una piacevole sorpresa. Henry, Uomo e Bimby, sponsor ufficiale, Melissa. Via Giovanni Argento, numero 2 barra 4, Angolo, Bar Massaro, Palermo. Scommettiamo che vinci. Vieni al nuovo centro scommesso e austranico di Vincenzo e Silvio. Potrai scommettere sui maggiori campionati di calcio, sia nazionale che esteri, Formula 1, MotoGP, basket e tanto altro ancora. Qui potrai anche aprire il tuo conto gioco, Betwinink. Trovi anche il poker online, il poker texano e la sera gioco live. Austranic si trova a Palermo in via con radio a volio 13B. Se volete gustare degli occhi miei panini, lo collino in bocca è quello che fa per voi. Porchietta, kebab, digitoria, panineria d'occo, pane con musa, focacceria e da oggi novità del 2014, noi entri di spedini chiamati spedotto. Veniteci a trovare la collina in bocca, il re della porchetta, di Aliotto Alessandro e Nino Rizzo. Si trova a Palermo al Corso del Mille numero 219. Vi aspettiamo! Con gru, demolizione auto, sgombro, magazzini e scantinati. Fair Metal di Paolo Ferrara e figli. Lo trovi in via del Bassotto 2 90 125 Palermo. Infoline Paolo 320 18 41 435 Andrea 380 12 72 554 Fair Metal Soccorso stradale 24 ore su 24 Mercatone della frutta di Giacomi e figli, piazza della costellazione. Il mercatone della frutta vi offre ogni giorno frutta di giornata, primizie, il meglio da portare sulla vostra tavola. Ricorda, mercatone della frutta, Giacomi e figli, piazza della costellazione. Mercatone della frutta effettua anche un celere servizio a domicilio, chiamando il 329 11 46 569. Mercatone della frutta, Giacomi e figli, piazza della costellazione, Palermo. Mercatone della frutta, Giacomi e figli, piazza della costellazione. Attenzione, attenzione! In arrivo per le vostre pulizie è arrivato Belmonte Detersivi. Il Monte Detersivi offre svariati prodotti come articoli casalinghi, profumi, detersivi di tutte le marche e tanti altri prodotti Il Monte Detersivi lo trovate in via Zaire numero 19 Palermo, zona Passo di Rigano Inoltre si effettua anche servizi a domicilio chiamando al 320-250-8496 Il Monte Detersivi, prezzi convenienti, gentilezza e cortesia Nuova, apertura, brivido trend, uomo-donna, by Juicy Con prezzi anticrisi, sede unica, Palermo, via Sperone, numero 7C Telefono, 091 27 37 477 Seguici, su Facebook, brivido trend, uomo-donna, by Juicy Mă trec toate apele, oh, sale, 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 sale Când îmi sarut spusele, oh, sale, 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 sale Mă trec toate apele, oh, sale, sale, sale Când îmi sarut spusele, oh, sale, sale, sale Mă trec toate apele, oh, sale, sale, sale Nuova apertura, brivido trend, uomo-donna, vai giusi, con prezzi anticrisi, sede unica, Palermo, via Sperone, numero 7C, telefono, 091 27 37 477, seguici, su Facebook, brivido trend, uomo-donna, vai giusi. Rimani qui, non andartene ti prego, rimani qui, ci sei male, ti capisco, io senza... Darò il primo bacio al principe, al giuro, a chi poi mi sposerà. Ogni giorno messaggi d'amore per me, vogliamo un cuore innamorato, o anche smettere di amare, e salvo l'uscurtaio. Io ti terrò nascosto, rinchiuso in un ricordo, solo niente non è giusto, spezzare il sentimento che ci lega tanto voglio te. Rimani qui, ma che giorno maledetto, io sento già... Buonasera a tutti, applausi, e allora? E allora, benvenuti in una nostra puntata. Fate voi, fate voi. Allora, iniziamo con qualche sponsor? Sì. Esatto. Dai, inizia tu. Ok, allora saluto il mio sponsor ufficiale, la Fire Metal di Paolo Ferrara e Figli, 24 ore su 24, Paolo 320 18 41 435, Andrea 380 12 72 554. Il mercatone della frutta di Giacomo e Figli, Piazza della Costellazione, servizio a domicilio, 329 11 46 569. Ok, io volevo salutare il mio sponsor ufficiale, Belmonte dei Tersili di Belmonte Giuseppe, via Zaire numero 19, servizio a domicilio, 320 25 08 496, si trova zona Passo di Giacomo, Borgo Nuovo. Allora, io saluto i miei sponsor, Henry, abbigliamento uomo e bimbi, Angolo Barmassaro, via Giovanni Argento numero 24 Palermo, troverai tutto quello che cerchi a prezzi vantaggiosi, con una spesa di 100 euro, Henry, riserva per te una piacevole sorpresa. Andatelo a trovare, volevo ricordare che è il mio sponsor ufficiale. Poi Astra Unic, agenzia Internet Point scommesso online di Silvio e Vincenzo, Astra Unic si trova in via Corrado Avolio 13 B, Piazzetta Stracine, zona Ballaro o Palermo. Brivido Trend, by Juicy, sede unica, nuova apertura, abbigliamento uomo-donna con prezzi bassissimi e un look alla moda. Se volete potete aggiungere Brivido Trend anche su Facebook, inviando la richiesta di amicizia. Il negozio si trova in via Sperone 7C, accanto a Ufo Baby. Poi volevo ricordare che Brivido Trend ringrazia la ditta Costruzioni Limuli per aver realizzato il loro splendido negozio, perché hanno ristrutturato il negozio, è venuto bellissimo, fatti abiti bellissimi, a poco prezzo e tanto altro. Acquolina in bocca di Aleotta Alessandro e Nino Rizzo, aperti da poco, anche loro. Potete trovare panini con porchetta. È il re della porchetta, anzi, kebab, friggitoria, panineria doc, focacceria, la novità dell'anno, spiedini new entry. Si trova in via Corso dei Mille, numero 219, zona Piazza Scaffa, Palermo. Questo che c'entra? No, no, questo è uno schizzetto, diciamo, una cosa mia, sì. Ok, allora, niente, poi continuiamo con qualche saluti. Avete saluti da fare, si vai? Sì, sì, parecchi. Perché stasera andiamo velocemente, vero Mari? Esatto. Ok. Ancora tennis. Noi sempre tennis, e tu perché vieni così? Ah, io... Non vuole correre, Melissa? Non vuole correre. Non corri. Allora, io invece saluto. Danny Serio, Luana Ferruggia, Noemi Zora, Silvia Piazza, Dorotea Ferraro, Rossi Di Liberto, Martina Trippodo, Noemi Parisi, Angela Licata, Katia Ello Giudice, Ida Francesco Lecce, che gli mando un bacio, Gaia Stoessel, Desi Ferrante, Dani Carmen Lomonaco, Enrico Trentacosti, Letizia Morettina, Mina Framarica, Francesca Nocera, Alessia Serio, Floriana Menza, Desi Crivello, Silvia Piazza, Chiara Ferrara, Danny Bologna, Giussina Schocking, Vincenzo Alfano, Gabri Magnis. Voglio mandare un grande bacio al mio cugino Ciccio, che gli mando un saluto alla pescheria di Gino Labarbera e figli. E un saluto a Giovanni Tranchini e alla sua ragazza. Saluto la famiglia Ribado per intero. Ok. Vai, vai, vai. Continuo io, famiglia Quartetti, la signora Sara Ardizzone, Miri di Benedetto, Valentina Collica, Cettina e Piero Catanzaro, Peppe Pace, Piero Todano, Piero Tadaro, da Trapani. Che mi associo? Maria Rubino e Vito, Filippo, Giussi, Giorgio e Mirko di Brivido Trend, Ignazio Damasco, Maria Pia Provenzano, Gioacchino Spitalieri, Giuseppe Provenzano, Mario Netto, un attimo solo, tutti i miei zii, i miei cugini che mi seguono da casa. Gli mando un grande bacione. Ci salutiamo. Ci salutiamo. Gaitano, Rosi, Agostino, Giuseppe, Katia, Mimmo, Alessandro, Gabriele, Morena, Salvo, Teresa e la piccola Melissa, Gioacchino e Viviana di Bartolo, Pino Alfano e Carmela Calafiore, non mi chiamo solo io Melissa, i miei genitori, poi la famiglia Giordano, Totò e Mariella Russo, Giuseppe e Monica, Francia Armanno, Francesca Nocera, Miriana Cernigliaro, Mario Netto, Rosi Scelta, Franci Passantino, Forto e Peppe, Piera, Jessica e la signora Elisa. Mi metti l'ansia. Perché? Perché no? Giuseppe, Giuseppe, Elisa, allora, Martina Spadafore, Smeralda, Morena, Vita, di Piazza e in Gastone. Che associo? Vale Amato, Manu Celeste, Rosi e Francesca Marino, un bacio, Agata Di Guardia, Marica Maniscalco, Alessia Lopresti, Degnaiello, Noemi Caronia, Carmi Cardace e Famiglia, Giorgia Gennaro e Famiglia, in particolare Accetti Tarantino, Giussi Lipari, Giuseppe Lipari, Giulio Sabatino e Famiglia, Manu Castrofilippo, Anna Maria Farina, Maria Licata, Jessica Sara e il Dottore del Pesce. Poi volevo aggiungere la famiglia di Carlo Macaluso, mando un bacione grande grande. Anche noi, anche noi, 1-0 e Pallacentro. Andiamo a salutare il service di Paolo Licata, mio padrino, grande Paolo. E niente, iniziamo subito col primo ospite che è un grande amico mio. Anche mio. Non ne posso più, proprio lo devo eliminare dalla mia vita. Perché? Ma no, è tanto bravo. Allora, un grande applauso per Peppe Rao. Applausi. Peppe, lo sai che io scherzo, vero? Buon lavoro a tutti. Abbiamo scherzato. A posto? A posto. Hai qualche saluto da fare? Niente, facciamo subito due saluti perché... Sì, sì. Allora. Volevo salutare a Totoro da Trapani. Sì, sì, no, vabbè, si segue sempre, lo dice a tutti. Esatto, si segue sempre. A Mimmo Grattatello del Fori Italico. Ciao Mimmo, un bacio. E il nostro amico, al mio manager Piero Maniscaldi con tutta la sua famiglia. Mi associo, ciao Piero. Mia moglie, i miei figli. Mi associo. La famiglia Tripiciano, tutte le agenzie di Palermo. Ci associamo. Pannolino di Piazza Cassa. Un bacio a Pannolino. Pannolino. Un bacio a Pannolino. Con tutta la sua famiglia. Mi chiama sempre a me Pannolino, un grande. E un saluto alla famiglia Ciro, Nina e Piero. Io volevo salutare Rosi di Dio. Ciao, Rosi. Perché sennò non mi fa uscire dal CTS. Scusa, ne salutiamo pure a Lucia Tarantino. Un bacio. Allora, cosa ci fa ascoltare, Guaglio? A sorpresa. Ah, a sorpresa. Peppa e Rao, applausi. Applausi. Una sola esbagliata. Un bacio a Pannolino. Un bacio a Pannolino. Un bacio a Pannolino. Un bacio a Pannolino. Grazie a tutti 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 Io Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ferre Grazie a tutti 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 Ferretti Soccorso Grazie a tutti 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 Tu Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti Vivere in Grazie a tutti 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 Grazie a tutti